nuovo appuntamento di salva un amico ci troviamo al parco canile empa di monza siamo in compagnia di stefania e della piccola trottola di soltanto quattro mesi e qui da pochi giorni esattamente sarà una futura taglia media quindi torno ai 20 25 chili è di questo colore splendido che insomma la fa somigliare un po a una labradorina anche se in realtà sappiamo che è un incrocio sarà un mix di più cose sicuramente è molto dolce molto socievole e molto desiderosa di fare tutti i giochi possibili e immaginabili vero ok quindi è molto attiva ovviamente come tutti i cuccioli di cosa ha bisogno un cuccio di che tipo di famiglia bisogna un cucciolo allora sicuramente di una famiglia attiva che la coinvolga appunto nella vita familiare non lasciandola troppo da sola perché ovviamente ne soffrirebbe e che abbia modo di fargli fare tante esperienze per fare in modo che cresca sicura e equilibrata insomma qual è il rapporto con gli altri animali lei è qui con i suoi fratelli dunque è già abituata insomma a stare a contatto con altri cani sì assolutamente è una giocherellona e quindi sarebbe meglio che si andasse a vivere con un altro cane fosse comunque un cane giovane che possa starle dietro non è ancora testata con i gatti però lo faremo sicuramente nel caso ci fosse già un felino presente in famiglia è abituata a passeggiare al guinzaglio allora sì ovviamente non è tanto abituata arrivando da un altro posto a quelle che sono le nostre città però gradualmente si sta abituando già in questi giorni a camminare senza grossi problemi dunque qual è la famiglia adatta per lei può avere anche contatti con bambini con sì perché no assolutamente bene bambini che siano educati ovviamente nei confronti del cane perché lo diciamo i cuccioli non vanno trattati come dei peluche no anzi sono molto impegnativi sia a livello di tempo che da di esperienze da da fargli fare e quindi no sicuramente non sono uno scherzo è già vaccinata sì assolutamente poi come come tutti i cuccioli insomma a suo tempo ci sarà da fare la sterilizzazione certo dunque speriamo davvero che trovi presso una famiglia chi è interessato può naturalmente contattare il parco canile empa di monza per adottare o avere ulteriori informazioni basta contattare il parco canile empa di monza al numero 039 835 623 oppure inviare una mail a canile chiocciola empa monza punto it a a a a a Grazie a tutti.